Ci avviciniamo a questa partita contro il Palermo, probabilmente tu non ci sarai o non so, dicci le tue condizioni? Non so se ci sono o no, però sto lavorando per tornare più presto possibile, per domenica non lo so ancora. Ecco, però il problema che avevi si sta risolvendo piano piano. Sto migliorando. Meno male che non era niente di grave. Anche io sono contento per quello, così vediamo com'è il miglior giorno dopo giorno per rientrare più presto possibile. Ecco, stai diventando uomo non solo gol ma anche assist perché anche a Perugia è stato un tuo assist a mandare in gol giaci. Calcio penso che si giochi in unici, se non puoi fare una cosa devi fare quell'altra. Sto lavorando per la squadra, diciamo. Quando non sono in posizione giusta per fare gol devo cercare di aiutare anche il mio compagno che sta bene per fare gol. Insomma, da quando il mister travesse in campo non sei più uscito, quindi vuol dire che stai facendo il tuo dovere al massimo. Beh, sì, sono contento di questo. Insomma, mi alleno per mettere in difficoltà il mister nelle scelte e per rivagarlo della fiducia. Ti stai trovando bene a fianco a Claudio Terzi, anche se domenica purtroppo non ci sarà, però insomma, ti stai trovando bene vicino al capitano. Beh, sì, mi trovo bene, mi trovo bene Claudio, un gran giocatore, mi dà una mano con la sua esperienza, insomma, il campo mi sto trovando bene. Affrontiamo il Palermo una squadra che davanti ha giocatori importanti, anche se mancherà Nestorovski, però, insomma, anche gli altri non ci saranno. Beh, sì, la squadra è sicuramente una delle rose più attrezzate del campionato, quindi servirà una partita veramente importante per portare punti.